Alla fine Nikki Bella e Artem Chigvisten si sono sposati. Il fidanzamento tra i due risale al 2019, mentre il primo incontro è datato 2017, quando hanno interagito nella versione americana di Ballando con le stelle. Tra l'altro nel 2020 hanno già avuto il loro primo figlio, battezzato con il nome di Matteo, che ricorda un po' l'amore che Nikki e anche la sorella Bri hanno per il nostro paese, per l'Italia. Ma delle vere nozze non c'erano mai state, perché con il covid in giro Nikki ha sempre preferito rinviarle. Il suo desiderio era che l'intera famiglia potesse essere lì per quel giorno di festa, che finalmente è arrivato. Ed ecco un'immagine che la ragazza ha pubblicato sul suo profilo Instagram, con gli anelli al dito e si vedono anche gli abiti nuziali. E ha scritto ho detto sì, e non vedo l'ora, che questa avventura vi sia mostrata nella sua interezza in uno speciale in quattro parti, che sarà proposto in tv da e-entertainment nelle settimane o credo nei mesi a venire. E qua sotto è pieno di congratulazioni provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica, dell'arte e ovviamente del pro wrestling.